Hella ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Pikmin 2 La scorsa volta abbiamo completato il debito che avevamo da risanare dei 10.000 apiclari Come vedete siamo a 10.052 Solo che c'è stato un problema, che abbiamo lasciato lui sulla terra Subito dopo la partenza Olimar si è accorto che lui non c'era E quando l'ha detto il presidente, il presidente ha deciso di venire con noi Quindi da questa parte in poi, i due personaggi utilizzabili saranno Olimar e il presidente Non so la differenza in realtà, non credo che tipo il presidente faccia più danni Quando picchia o corra più veloce, non lo so, più difesa, non ho idea Teoricamente dovrebbero essere due persone completamente uguali L'unica cosa che cambia forse è il fischietto e il suono del fischietto Comunque, sorgente sconcertante, la scorsa volta abbiamo recuperato il primo tesoro L'unico che potevamo recuperare teoricamente Adesso ci ritorniamo, tra l'altro non so se avete già visto anche dall'anteprima lì Che c'è la Dolphin d'oro Praticamente con il recupero dei 10.000 picclari siamo diventati dei tamarri Guardate, abbiamo proprio la Dolphin d'oro E niente, comunque siamo tornati sulla terra perché dobbiamo recuperare tutti i tesori che ci sono Io ovviamente voglio completare il gioco al 100% Quindi tutti i tesori vanno raccolti e va recuperato lui Che io so già dov'è in realtà Però penso che lo lasceremo quel dungeon per ultimo Signor presidente, siete arrivati I miei sensori dicono che questo pianeta è ancora pieno di tesori Sì, sì, è pieno, sì Rideremo locutare i trasporti, i fasti e la gloria di un tempo Diventerà una società galattica Allora navigheremo tutti nell'oro, anche io ovviamente Beh, certo, non come il presidente Ma sei già ad oro comunque, vabbè Olimar, devo chiederti di fare in modo che niente offenda o metta in pericolo il presidente Che è che lo offende? Che sono tutti animali qua Tornando a noi dove sarà lui Disperso in una terra selvaggia senza neanche un po' di cibo Vi dico da subito che lui è nella quarta zona Comunque, non qua Possiamo andare tranquilli Che dramma Forza, non perdere tempo e vai a cercarlo Sì, vabbè, adesso, con calma, eh Già la scorsa volta siamo partiti dal pianeta E non mi hai fatto raccogliere la roba E lì, vabbè, lì ci sono passato sopra, eh Allora, come ho detto la scorsa volta Questa parte la passeremo completamente in acqua Tiro su i miei 100 blu Ovviamente tutte foglie Ma proprio neanche... Vabbè Mi è andata bene che comunque i gialli della scorsa volta non sono morti Ah no, tra l'altro forse ce n'è uno da recuperare là C'è un tesoro da recuperare con i... i gialli forse Non l'ho recuperato la scorsa volta perché me lo sono scordato completamente Vabbè, fa lo stesso Allora Prendete una squadra Io adesso ne ho preso i 17, spero bastino Ma forse ne servono anche 15 Però è sempre meglio averne... Ma dov'è? Ma non c'è il tesoro Perché io mi ricordavo il tesoro? Perché là c'è il robot per i gialli? Ok ragazzi, la mia memoria inizia a fare cilecca Perché io mi ricordavo che lì c'era un tesoro Probabilmente era... era riguardo Pikmin 1 Perché vi ricordo che la zona è praticamente la stessa A qua c'abbiamo la blostrica Occhio alla blostrica perché vi... vi mancia... C'ha tipo la lingua che va... va di traverso Non so come funziona la sua lingua, è strana Voi dovete semplicemente colpirla sulla coda Che non so se è la coda, non ho un'idea Orca vacca, quanta roba Eh oh, grazie mille Apportate tutto alla base E lì purtroppo ci vogliono i gialli a questo punto Quindi io devo andare a prendere i gialli Facciamo una cosa Olimar si mette a dormire Con un blu Portatelo alla base, grazie Intanto voglio uccidere questa rana E vediamo se riusciamo a recuperare qualche tesoro qua Ok Zero cadaveri Ottimo, molto bene Portate tutto Qua non c'è tesoro Va bene Ok Ah no, la blostrica c'aveva un tesoro Ok, questo non me lo ricordavo Ottanta, un galleggiante si è mangiato Idromina Un galleggiante per i pesci Ci peschi con quello Forse c'è un tesoro di qua Aspetta, aspetta, aspetta Scusa, c'è un tesoro di qua? Non ho la minima idea di come recuperarlo Probabilmente sta di qua Poi adesso dobbiamo andare anche di qua perché ci servono i gialli Ma tiriamo su un po' di gialli E tiriamo su un po' di blu E tiriamo giù un po' di gialli 20 direi che bastano Mi raccomando L'importante è non andare con troppi Perché là c'è Ma oggi non mi va il coso? Dai, forza L'importante è non andare con troppi Perché il passaggio qua è molto stretto Per cui va fatta la cosa che ho fatto prima con i blu Li lanciate tutti qua Li richiamate e li comandate Mi raccomando, piano Piano con calma Bravi E tutti lì con calma Ora, senza cosa che ho fatto Che ho fatto prima Olimar torna alla base Qua bisogna aspettare che quello finisca Ma io non posso passare in qualche modo Scusa Presidente non ci riesce? No? Allora, ok Intanto facciamo anche un'altra cosa Già che ci siamo Perché di qua Ok, vedi che mi ricordo? Di qua c'è tutta un'altra zona Quindi queste Queste cose Qualcuno morirà C'erano le idrotalpe Che vabbè purtroppo Capita Qua stanno quasi per finire Lì poi c'è quel robot da distruggere Perché ci permetterà poi di andare con tutti quanti In realtà Sapete che non so bene Se servono tutti quanti Mi sa che quello è un dungeon Che richiede solo i Pikmin Blue Poi vi spiegherò Penso che quello là Sia uno dei dungeon più difficili E inquietanti Di tutto il gioco Tra l'altro non abbiamo ancora scoperto quello Ma mi pare che quello lì sia La Roccaforte segreta Può essere O l'abbiamo già fatta La Roccaforte segreta C'è un dungeon Con tipo Con i ragni Dovrebbe essere Poi in realtà abbiamo Tutto il Tutta la parte Che sta Dall'altra zona Proprio Opposta a noi Che è tutta da esplorare Anche quella Un gran casino Quest'area è bella Grossa devo dire Una grande roccia Giace in una puzza d'acqua Adesso vorrei dire un paio di cose Vi ho osservati lavorare insieme Avete collaborato in maniera notevole Ma questo è sto discorso mo Per andare avanti però Dovete abituarvi Ad alternarvi Al posto di comando Ma lo so Lo faccio da mo C per separarvi Ma lo so Buon lavoro di squadra Potrei superare Qualsiasi ostacolo Ma guarda Ma mica sono andato ieri Olimar qua Ha quasi finito Dico quasi Perché in realtà Non ha finito un cacchio Lui è finito Tricamente adesso Parte via tutta l'acqua Ottimo Voglio capire dove sta Quel tesoro Perché qua mi suona un tesoro Scusate Cioè mi suona un tesoro Che sta dall'altra parte Ma dov'è Ah oddio Ma ha risucchiato Tutta l'acqua anche lì Ok ma ha prosciugato tutto Ottimo Vado a dire Che possiamo sostituire I gialli Con i bianchi Perché a questo punto È ovvio che sia Un tesoro Sotterrato Ok ottimo Ha finito anche Il robo di là Fatemi vedere Se lo trovano Direttamente qua O devo andare proprio sopra Proprio sopra No No è qua Ok bravi Ma torniamo a noi Olimar Qua c'è un gran lavoro Da fare a quanto pare Perché devi Disboscare Tutta la zona Vedete di non farvi Uccidere Grazie Chi c'è Qua c'è Qua c'è una foglia C'è anche un tesoro Qua in un qualche modo Lo troveremo Ci sono le idrotalpe Che potete benissimo Bravi Uccidere senza farvi mangiare Qua scusate Cos'è lo lasciamo Oddio ma una conchiglia E te mi porti in casa Ottimo Beh mi piace sto gioco di squadra Bravi Più che altro adesso non capisco Eeeh Come ci arrivo Ah passo da qua Ho capito Mi servono altri bianchi Ubriachi Sono questi bianchi Perché a quanto pare vanno zig zag Mi servono altri bianchi Per scoprire il tesoro Che c'è sotterrato Su quell'isolotto Che non mi ricordo cosa fosse ma penso una un tipo una piuma forse Fusitezza corazzata Ok è arrivato una un escargot Una conchiglia pagurata Che cacchio è Quindi io teoricamente passando di qua Li lancio tutti i bianchi Olli marse li piglia E gentilmente mi disotterrate il tesoro Ovviamente cercate di non mandare i bianchi Poi recuperarlo dall'acqua perché Annegano No ok forse è un tubero comunque Ok sì mi sembra una cipolla Date tutti una mano Qua intanto continua a arrivare roba Va bene ci dovremmo essere tutti Tra l'altro ok Tra l'altro adesso inizia il tramonto Se riesco voglio provare a fare un'ultima cosa Ovvero andare a tirare giù il muro Che ci sta dall'altra parte Quello che avevamo iniziato a tirare giù la scorsa volta Che non siamo riusciti a finire In realtà la vedo molto dura Forse preferisco fare diventare La maggior parte di loro fiore Dai via così Non voglio rischiare Ma oddio ma dove sono gli altri Oh sbrigatevi cacchio Non ce la fanno Non ce la fanno Devo fare 30 e 70 Ok ci siamo tutti E non l'abbiamo recuperato Oggi l'abbiamo recuperato un tesoro Forse sì Il galleggiante Però abbiamo aperto l'area Che è la cosa che mi interessava di più sinceramente Teoricamente non dovrebbero esserci morti Barra dispersi Ok Quello di magma Quello lì infuocato l'abbiamo incontrato Perché io me lo ricordavo lì Nel coso del Dei gialli Prima di arrivare dai gialli Forse ricordo male non lo so Ah no due l'abbiamo recuperato Ok Dromina e squisitezza corazzata Ottimo Abbiamo aumentato a dismisura I blu Che va benissimo Ci serve sempre Tra l'altro sono diventati più dei rossi adesso Ma va bene così Tanto Una volta raggiunto un certo limite Poi Oh mio dio Sono appena arrivato Sono appena tornato dalle vacanze Scopro che è iniziato una caccia al tesoro Beh non tornare a casa Se prima non hai trovato ogni oggetto sulla lista Ma Ma che cacchio vuoi Questa è la moglie forse La moglie di chi Di Olimar o del presidente Mi sa che è del presidente Ok abbiamo scoperto anche la sala da bagno Si chiama sala da bagno Si però forse non è il dungeon che dico io Adesso sapete che ho un dubbio Sono sicuro che è qua il dungeon infame Però non mi ricordo qual è Non mi ricordo il nome Però lo vedremo Sono sicuro che quando lo troveremo Me lo ricorderò Comunque abbiamo fatto un bel po' di progressi Anche se non abbiamo raccolto molti tesori Però la prossima parte Potrei azzardare A dire che Completeremo l'area O perlomeno completeremo La superficie ovviamente Poi ci saranno tutti i 4 dungeon da fare Adesso bisogna vedere anche quello Come farli Perché saranno un casino E in ogni caso Termino qua l'episodio Ci vediamo la prossima parte Su Pikmin 2 Dove appunto Completeremo la superficie Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti